mega assembramento al pincio di roma ci troviamo nei pressi di villa borghese dove tutto si sarebbe concluso con una mega rissa persone senza la mascherina persone che non la indossavano e che purtroppo hanno creato veramente momenti di grande negatività nel senso che sono arrivati addirittura le forze dell'ordine per colpa del fatto che c'erano persone che non utilizzava una mascherina tutto si è concluso con una massa rissa persone che non indossavano mascherina maxi assembramento al pincio del di roma ci troviamo nei pressi di piazza del popolo o meglio di villa borghese questo dunque è accaduto questo dunque è successo vi ringrazio per la visione vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi saluto caro tale ando il narratore italiano di youtube italia grazie